La respirazione nel nuoto in acquilibrio è uno dei fattori che può fare la differenza. Visto che non nuotiamo nelle corsie, per guardare la direzione è necessario alzare la testa con la respirazione frontale. Io personalmente cerco di respirare frontalmente il meno possibile, in modo da non sprecare l'energia. Soprattutto quando respirate frontalmente, cercate di non spostare l'assetto della nuotata, in modo da risparmiare energia. Sicuramente questo ne gioverà nello sprint finale.